Avete avuto più di una segnalazione dell'arrivo di una maxirata del 50% con scadenza il 21 dicembre per quanto riguarda le tasse universitarie? Sì, le segnalazioni erano molteplici e riguardavano anche questo aspetto. L'altro aspetto era quello relativo all'aumento dei costi e l'altro aspetto ulteriore era quello relativo al fatto che non si è tenuto in considerazione il fatto che siamo in un'area terremotata e a differenza di altre facoltà l'Università di Terro non ha messo in pista delle azioni tese a agevolare coloro che hanno una condizione di disagio. Meno agevolazioni rispetto alle altre zone terremotate d'Italia? Sì, per quanto riguarda questo aspetto particolare sì, meno agevolazioni. Sono state messe dentro tutte le agevolazioni previste dalla nuova legge bilancio del 2016 e quindi con grossa opportunità per i cittadini e i cittadini studenti. Molti di questi che magari neanche sanno che ci sono queste possibilità perché magari non presentano l'Ise o non sanno che se fanno determinati esami perché questa normativa prevede una primarità anche per gli studenti più meritevoli oltre a coloro che hanno dei redditi bassi. Qual è l'importo medio di questa rata che va pagata entro il 21 di dicembre? No, diciamo, con questa nuova legge stabilità le prime fasce fino a 13.000 euro, diciamo, non sono esenti. Dopodiché c'è una progressione, una cosa particolare dell'Università di Terro, diciamo, non c'è questa progressione, viene mantenuta per i reddi superiori a 50.000 euro e comunque tenendo conto dello studio sulle migliori università d'Italia che ha condotto la Federconsumatori nazionale, l'ottavo rapporto, in pratica si posiziona sopra la media nazionale delle altre facoltà. Secondo uno studio effettuato sulle università abruzzesi, all'Università di Terramo negli ultimi dieci anni le tasse per l'iscrizione sono aumentate del 127%. Sì, questo è un record negativo che ha l'Università di Terramo, appunto, l'Università di Terramo. C'è stato questo studio che ha comparato i dati dal 2005-2006 al 2015-2016. Grazie. Grazie. Grazie.